Ti rete grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo Dio Gesù dicevo e disse Prendete e mangiateli tutti, questo è il mio corpo, offerto di sacrificio di amore. Dopo la cena, allo stesso fu, per essere calici, ti rete grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse Prendete e bevetevi tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Grazie a tutti.